Ciao amici, a chi non piace il cioccolato? Ah, io lo mangerei sempre. Eh già, succede a molti. La cosa importante è mangiare cioccolato fondente almeno al 70% e dolcificato con zucchero di canna, dolcificanti naturali, ma mai zucchero bianco. E il cioccolato al latte? Eh, non è così sano. Il cioccolato al latte spesso contiene additivi, grassi, zucchero bianco, che lo rendono poco sano e nemico di pelle, intestino e anche della linea. Adesso vediamo 6 benefici del cioccolato fondente. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Nutrienti. Il cacao contiene fibre, ferro, magnesio, rame, manganese, potassio, fosforo, zinco e selenio. 2. Antiossidanti. Il cioccolato fondente è un potente antiossidante grazie al contenuto di polifenoli, flavonoidi e catechine, tutte sostanze naturali antiossidanti. 3. Pressione alta. Secondo diversi studi scientifici, i flavonoidi del cacao aiutano i vasi sanguigni a rilassarsi, abbassando la pressione del sangue. Ovviamente si parla di effetti lievi, ma è bene saperlo. 4. Colesterolo alto. Un altro studio ha dimostrato che il cioccolato fondente riduce il colesterolo LDL cattivo, a favore di quello HDL buono. 5. Insulina. Mangiare cioccolato fondente amaro aiuta a ridurre la resistenza all'insulina, uno dei fattori di rischio di diabete e malattie cardiache. 6. Cervello. È stato scoperto che il cacao fa bene al cervello. Perché mette di buon umore quando siamo depressi? Parlo di benefici scientifici. I flavonoidi del cacao migliorano la circolazione e il flusso di sangue al cervello. I minerali e le sostanze stimolanti, come caffeina e teobromina, migliorano le funzioni cognitive, la memoria e riducono il rischio di declino cognitivo. Per saperne di più sul cacao e i suoi benefici, potete guardare questo mio video. E se volete seguire tutte le nuove uscite, basta iscriversi al canale. È facile, con un clic così. Attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Se YouTube non vi avvisa e può capitare, andate sulla home del canale perché pubblico video ogni giorno. Mangia sano e vivi meglio. Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri e ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!